Buongiorno e buonasera, qui Shadow Yoshi e siamo ancora una volta su Chain Reaction. Non ricordo cosa ho fatto l'altra volta, è passato tanto tempo. Ah, si può andare su di qua? Ok. Comunque oggi siamo in un livello old style, come potete vedere. Oh, ok. Era qui che mi chiedevo... Ok, scusate, devo vedere che succede. Non penso di poterci passare sopra. Qui sto collaudando. Comunque questo è un livello old style, come potete vedere. Già, come pensavo. Oh, allora. Beh, comunque devo morire di sicuro perché... Quel guscio è ormai desponato. Allora. Facciamo il livello come si deve. Come l'ho detto, sono scemo io. Bisogna per forza salire di qua. Cos'è che bisogna fare? Ok, sono leggermente confuso. Devo tirare... Devo prendere lo Yoshi e tirarlo da un'altra parte? E questo che devo fare? Ah, penso di sì. Penso di sì. Ok. Ah, ho sbagliato. Giusto! Era così che funzionava questa hack. Mi sono dimenticato completamente. Allora. Ah, c'ero quasi. Ogni volta che torno su chain reaction mi dimentico del tutto che è questo che... Allora, continuo a prendere qualcosa. Mi dimentico sempre che si può cambiare il tipo di salto a mezz'aria. Ok, hitbox, per favore. Ok, non devo rallentare lì. Se no, lo spawn mi frega. Devo fare tutto in uno. Ah, non dovevo tenere premuto il tasto della corsa. Ok. Uno, due, tre, quattro. Cosa che devo fare io qua? Ah, giusto! Wow, devo veramente riavituarmi. Ho sbagliato. Ah, no, ce l'ho fatta. Ok. Cosa cavolo? Ok, no. La prima cosa che ho fatto era giusta. Cioè tirare il guscio per... Togliere di mezzo quello che c'era sulla mia strada. Ok. Fin qui ho capito. Non mi è entrato il salto. Allora. Oh. Uno. E dai, sto hitbox. Non dovrebbe succedere quello che succede lì. Quando c'è un guscio che corre in uno spazio largo due. E mi è successo già due o tre volte. E non è bello. Allora. Eh. Non ho cambiato in tempo. Ok. Dovete perdonarmi. Ci metterò un po' ad abituarmi. Come non entra... Oh, madonna. Devo centrare quello. Ok. Ok. Ah. Tutto un tratto sta un po' sgranando. Come mai? Eh, che cavolo. Devi prendere P-Speed e... Io continuo a mancare lo Yoshi. Allora. Devi prendere P-Speed... E non mancare lo stupido salto. Se ne prenderlo all'ultimo non si arriva alla fine, probabilmente. Io continuo a mancare sto Yoshi. Allora. Dai! Dai! Tre. Eh, sì. Si arriva qua e lì c'è il checkpoint. Ho capito. Ho capito. Bisogna letteralmente solo centrare quella cosa qui... Quella cosa lì. Preso! Yo! Ok. Checkpoint ottenuto. Cos'è sta roba? Aiuto. L'ho beccata. No, cavolo. Sto andando benissimo. Oh, andiamo. E' sufficiente tenere premuto a destra? Non bisogna neanche fare... Ahia. Non bisogna neanche fare timing. Ah. Lì bisogna, sì. Lì bisogna aggiustare il salto. Wow! Hai già finito? Ah, ok. Ah. Interessante. Beh, immagino che con questo livello abbiamo finito. Non ci è voluto molto. Ho dovuto solo arrivare al checkpoint e centrare un blocco. Ok. Per ora è tutto. E' durato molto poco questo episodio. Wow. Questo era Chain Reaction. Io sono Shadow Yoshi. Se il video vi è piaciuto, se volete vedere di più, lasciate un commento, mettete mi piace o iscrivetevi al mio canale. Con questo abbiamo finito, per ora. Perciò ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Bella!